Oggi è una giornata interessante, una giornata in cui si scopre questo nostro patrimonio, quello del Parco della Sila, ma anche quella che è la presenza dei volatili e di come vanno tutelati. Sì, gli uccelli sono importantissimi, ma soprattutto per lo stato di salute del pianeta. Sono degli indicatori importanti di biodiversità, quindi degli indicatori ecologici. La loro presenza ci dice a che livello è il livello di perdita di biodiversità o di cambiamento climatico in atto. Quindi dobbiamo difendere gli uccelli. Il Parco della Sila è un luogo straordinariamente importante per la biodiversità. I segnali che arrivano a livello globale sulle specie avifaunistiche ci dicono che bisogna avere una grossa attenzione, ad esempio anche in agricoltura. Gli uccelli, quelli definiti più comuni come la rondine, il passero o la lodola, stanno crollando in maniera vertiginosa. Negli ultimi 20-30 anni abbiamo perso popolazione anche del 40-50%. Allora è chiaro che bisogna favorire un'agricoltura che sia sempre più sostenibile, quindi una diminuzione nell'uso dei pesticidi. Dobbiamo riuscire a dare, ad esempio, anche le risorse del piano di sviluppo rurale a coloro che fanno anche natura. Ci sono grossi agricoltori, grandi cooperative, particolari aziende che già difendono l'ambiente facendo una buona agricoltura. C'è tanto da fare anche contro il consumo del suolo, sulla desertificazione. E' importante amare il mondo degli uccelli perché i loro segnali di malessere possono portare a condizioni di degrado del territorio e degli habitat e a preoccupanti situazioni anche nei confronti degli esseri umani. Vediamo che i giovani sono diventati consapevoli con Greta della necessità di un pianeta da salvare. E lei faceva riferimento, saranno probabilmente i prossimi ministri del futuro. Ai giovani bisogna comunque continuare a dare un messaggio per far sì che anche i genitori seguano passo passo quello che fanno i figli. Noi ne siamo convinti, i giovani sono il futuro non solo dell'Italia ma del pianeta. Tante sono le iniziative, ad esempio, del Ministero dell'Ambiente che vanno verso l'educazione ambientale, la sostenibilità. Soltanto il motto Io sono ambiente e la battaglia contro le plastiche monouso e quindi l'uso del plastic free, evitare di utilizzare queste plastiche usa e getta a favore invece di soluzioni alternative, sono già un piccolo biglietto da visita. I giovani possono contaminare le famiglie e siccome rappresentano le nuove generazioni per il futuro, questo pianeta si salverà se tutti questi giovani verranno ascoltati e se tutti noi cittadini diventiamo veramente un esempio, non solo nelle nostre comunità, non solo in Italia ma a livello internazionale. Greta ci ha lanciato un messaggio, lo fece anche il Papa con l'enciclica molto importante sull'ambiente. C'è un grande dibattito a livello internazionale. L'Italia fortunatamente anche con questo Ministero dell'Ambiente è leader nel voler indirizzare un nuovo percorso nella sostenibilità e nel rispetto dell'ambiente. in una pagina è completa, è un picchio nero che è la specie più rappresentativa.